Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, un pomeriggio per stimolare un pensiero critico e una presa di posizione nei confronti dei conflitti attualmente in corso. L'occasione sarà offerta dalla presentazione del libro Scomode Verità, firmato dal giornalista e scrittore Alessandro Di Battista, in programma le 17.30 di sabato 20 aprile al Teatro Pietro Aretino in Via Bicchieraia. Un incontro inserito tra le iniziative dell'ACLI Life Festival in collaborazione con la libreria alla Feltrinelli Point, che ha organizzato una serie di conferenze proprio sul tema della letteratura di impegno civile. Avremo insieme alle ACLI, al presidente Lucio Scatizzi, al Teatro Pietro Aretino l'incontro con Alessandro Di Battista e poi ci vediamo nel prossimo weekend perché avremo un trittico di appuntamenti. Iniziamo venerdì 26 qui in libreria alle 18 con Anna Cherubini e il suo libro sostanzialmente sul caso Emanuela Orlandi, un caso che è ancora aperto e doloroso della storia italiana. Poi avremo il sabato 27 alle 17.30 al circolo artistico Sigfrido Ranucci, il popolarissimo conduttore della trasmissione Report, con il suo libro La scelta che racchiude un po' una sorta di silloge dei casi più spinosi che lui ha trattato nella sua carriera. E concludiamo questo ciclo di incontri di tema civile, insomma sui temi appunto civili di stringente attualità con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, insomma molto notissimo in tutte le televisioni italiane e con il suo libro edito da Paperfest sulla situazione ovviamente geopolitica tra Israele e Palestina.